Sì, perdere fa parte del gioco, si perde, si vince, si pareggia, venivamo da un periodo positivo, prima o poi doveva capitare così, io dico sempre meglio in questo momento, così magari capiamo un po' anche l'entusiasmo, come si può dire, bisogna abbassare un po' le ali e tornare quelli che eravamo prima un po' più umili, dai, quindi meglio così, meglio così perché affronteremo la partita di mercoledì, secondo me, diversamente. È stato il mio percorso di vita l'Avellino, sono stato, anche se per poco tempo, benissimo, la città mi ha accolto benissimo, ma era una famiglia, abbiamo vinto, abbiamo riportato l'Avellino nella categoria che ancora adesso non li compete, però nel professionismo che era il nostro obiettivo. Quindi mi sento partecipe a questa vittoria e anche di questa che teoria che sta facendo l'Avellino. L'Avellino è stata costruita per vincere il campionato, dai, non bisogna nasconderlo. Non devo avere paura di nessuno, secondo me il suo avversario sono loro stessi perché con una formazione così, con i cambi e tutto quanto, possono fare soltanto bene quello che stanno facendo.